Parterdi Ministri a Palazzo Vecchio per la due giorni dedicata all'Expo. Noi abbiamo un grande obiettivo, realizzare un Expo sicuro. Noi dobbiamo fare sì che l'Expo avvenga in piena sicurezza. Tanto è stato fatto in termini di prevenzione decine di interdittive antimafia che hanno impedito ad aziende sospettate di infiltrazioni criminali di realizzare gli appalti di Expo. Oggi noi abbiamo schierato in campo per il lavoro successivo 4.800 soldati in Italia. Avremo una dotazione speciale per Milano e avremo dei presidi specifici fatti dai soldati per realizzare azioni di prevenzione antiterrorismo. Noi saremo presenti come Ministero a Expo 2015 con un grande padiglione dove mostreremo tutta la nostra biodiversità che è la più grande di tutto il mondo. Faremo vedere come noi la rispettiamo e come abbiamo soprattutto intenzione di valorizzarla dal punto di vista economico e occupazionale. Grazie. Grazie.